L'accordo di Ginevra rappresenta non solo una boccata d'ossigeno per gli iraniani. La fine dell'isolamento di Teheran avrà infatti un impatto sugli equilibri economici mondiali. La cautela è d'obbligo, ma la revoca delle sanzioni di per sé consente di aprire la porta all'ottimismo. Oggi è un nuovo inizio, ha detto il presidente Rouhani al suo popolo, l'inizio di un futuro migliore per i nostri giovani e per il nostro paese per accelerare lo sviluppo. La fine di una serie di misure d'embargo significherà, tra l'altro, per gli iraniani, poter comprare genere di consumo senza dover ricorrere al mercato nero. Secondo gli analisti, in un primo momento, la dinamizzazione dell'economia iraniana non comporterà comunque la creazione di posti di lavoro. Si tratta di sicuro di un nuovo inizio, perché la produzione di petrolio cambierà, così come l'economia. Da quanto ne so, i paesi europei sono pronti a investire in Iran e si attendono altrettanto da Teheran. Nessuno inizia un negoziato senza vederne la fine. È chiaro che volevano i negoziatori trarre beneficio, ma anche noi ne avremmo vantaggi. Con circa 80 milioni di abitanti e un'economia che vale 420 miliardi di dollari, l'Iran potrebbe crescere a un tasso del 5% nel prossimo anno. Teheran vedrà infatti la propria capacità industriale, oggi ridotta al 60%, tornare a livelli più competitivi. Anche lo scambio commerciale con l'Europa dovrebbe subire un'improvvisa impennata. Se la revoca delle sanzioni includerà non solo il petrolio, ma anche il settore energetico, avremo un afflusso di investimenti verso l'Iran. Chiaramente la revoca delle sanzioni porterà investimenti esteri, cosa di grande importanza. In attesa che il prezzo al barile del Brent risalga e che Teheran ammoderni le infrastrutture del settore petrolifero, in molti scommettono che arriveranno anche investimenti di israeliani con interessi transnazionali, anche se Israele vede come fumo negli occhi il rafforzamento dell'economia del nemico di sempre. L'Iran esporterà più petrolio e gas e molte sanzioni verranno revocate. In effetti questo accordo permette al paese di dotarsi di un'industria nucleare e in 10-15 anni di diventare una potenza atomica. Israele, contrario a qualsiasi patto con Teheran, giudica l'accordo di Ginevra un errore storico.